Ecco ma mi fa piacere che ancora una volta si sottoline l'importanza dello stile di vita ma possiamo pensare a un paziente tipo colpisce più l'uomo più la donna più la persona anziana o i giovani? I linfomi hanno come mediane di sorgenza 65 67 anni quindi sicuramente sono più rari nell'età giovanile iniziano a crescere dopo la quarta quinta decade e trovano la loro massima espressione nella sesta settima decade abbiamo una popolazione sempre più anziana in questi gruppi di pazienti la ricorrenza di tutte le patologie tumorali e linfoma non fa eccezione troviamo un'incidenza aumentata di linfoma ma perché sostanzialmente è sempre legato al meccanismo con cui si crea una cellula tumorale il dna invecchia si accorcia la costruzione della replicazione della cellula ed è più facile che avvenga l'errore durante la replicazione questo errore porta a perdere alcuni tratti regolatori della cellula e quindi la cellula non è più capace di fare la sua funzione non è più capace di morire e aumenta invece la sua capacità proliferativa grazie a tutti